Resta anche il computer Raffaele Gallo, di cosa parlerai tra pochissimo? Parleremo di come le leadership si muovono in giro per il mondo e quali sono i modelli di leadership che possiamo, vogliamo seguire. Ti presenti brevemente? Sono Jacopo Mene, partner di Your Digital. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.